Tour di Salvini nella provincia di Taranto, a Manduria davvero si è registrato un boom, la piazza ha risposto in maniera molto ma molto significativa. Ne parliamo con l'onorevole Gianfranco Chiarelli, vice coordinatore regionale pugliese della Lega. Sì, Manduria così come Taranto ma anche Mottola, ma Manduria in particolare che è una città francamente dove c'è voglia proprio di politica, probabilmente questo periodo di commissariamento ha portato a un'attenzione importante alla popolazione perché ieri sera c'erano oltre 3.000 persone in piazza, quindi molto attenti ai temi di Matteo Salvini, questo significa che la Lega cresce, cresce non solo nel capoluogo ma cresce in tutte le città della provincia di Taranto, dal versante orientale al versante occidentale passando per Martina, Crispiano, Grottaglia, quindi l'asse centrale. I temi sono importantissimi, il calore che la gente esprime dà un segnale di positività a quello che è il lavoro che la Lega sta facendo sul territorio, per cui riteniamo che il 20 e il 21 settembre la Lega sarà trenante per la vittoria del centro-destra al Consiglio regionale, così come la Lega sarà determinante proprio a Manduria perché è la prima volta che si fa una lista alle amministrative e abbiamo i nostri coordinatori cittadini che stanno lavorando benissimo e sono l'avvocato Ferretti e l'avvocato Filotico, per cui io penso che sia un buon viatico per un successo della Lega in questa provincia.